Settimana densa di eventi che hanno suscitato grandi polemiche e soprattutto grandi fallimenti. Parto dal livello internazionale dove il G20 riunito in India, New Delhi, sostanzialmente ha affrontato poco e male il tema della fine della guerra in Ucraina, anche se in quel contesto Lavrov, il ministro degli esteri russo, ha incontrato per un totale di dieci minuti, raccontano le cronache, che il segretario di Stato americano durante questo colloquio pare che qualcosa sia venuto fuori, soprattutto il timore che la Nato possa allargarsi ancora ad est e possa in qualche modo inglobare l'Ucraina. Queste sono le notizie che sono trapelate dai giornali internazionali. Veniamo a noi, alle nostre vicende. La settimana è stata caratterizzata inevitabilmente da quello che è accaduto nel Mediterraneo, sulle coste calabresi vicino a Cutro. Si tratta veramente di un eccidio. Un barcone, una nave, una piccola nave si è incagliata a pochi metri di distanza da una spiaggia e i cadaveri sono stati tanti. Per ora sono 70 quelli già riconosciuti. Il presidente Mattarella ha voluto incontrare lì a Crotone i parenti delle vittime, le autorità locali, soprattutto i volontari, che in questi giorni, in queste notti hanno mostrato che cos'è davvero l'umanità. Un'umanità che però non è stata dimostrata dalle grandi polemiche che l'evento ha suscitato, soprattutto per effetto dei rimbalzi, dei rimpalli ministeriali, governativi, su chi avrebbe dovuto intervenire in un'operazione di salvataggio e su chi invece non è intervenuto e perché, per quale ragione Frontex ha dato l'allarme molte ore prima e tuttavia non si è intervenuti. Questo è un dato che probabilmente la procura saprà sciogliere. È un interrogativo forte, potente, che ha a che fare con le responsabilità delle autorità governative in materia di salvataggio e di sicurezza. Ma è stata anche la settimana in cui fortissime sono state le polemiche in relazione a quanto è accaduto al liceo Michelangelo di Firenze, dove, lo ricordo, un manipolo, è proprio il caso di dirlo, di squadristi ha picchiato qualche studente del collettivo di sinistra dello stesso liceo. Anche se la vicenda è avvenuta al di fuori della scuola, tuttavia resta un dato. Resta un dato per cui la violenza nelle scuole è sempre una circostanza da negare, da toglier via, da escludere. Che cosa è successo allora in questi giorni? È successo che la stampa italiana si è divisa in due grandi tronconi. Il primo grande troncone, la stampa sostanzialmente libera e probabilmente, diciamo, illuminata, mettiamola così, luministica, ha dato dell'evento, diciamo, un quadro, una narrazione sostanzialmente negativa, al punto che si è condensato il tutto in una grande manifestazione di Firenze, sabato, alla quale hanno partecipato più di 40.000 persone, tra studenti, docenti. C'era anche la preside Anna Lissa Savino, che è stata brutalmente retarguita dal ministro Valditaras, per effetto, diciamo, a causa di una circolare in cui la Savino sosteneva che l'indifferenza è il male peggiore della società. Ma è stata anche la settimana in cui l'acqua è stata protagonista, ed è acqua la parola che graffia della prossima settimana, su cui mi intratterrò. L'acqua, l'acqua del mare, che ha sepolto migliaia di persone nel Mediterraneo, non per colpa sua, evidentemente, l'acqua che manca, l'acqua potabile che manca nelle nostre regioni, nel nostro paese, in Europa. C'è una grande siccità. I fisici, i climatologi hanno lanciato l'allarme. Avanti così, in estate, dovremo razionare l'acqua. L'acqua è l'elemento forse più importante nella vita su questo pianeta. Razionare l'acqua significa avere a che fare con il razionamento di uno degli elementi più preziosi della natura. A questo siamo arrivati. E su questo concentrerò le mie riflessioni mercoledì.